Musica senza frontiere. In questo tutorial parleremo di musica del mondo e di musica europea, poi di quella del mondo arabo, di quella africana, di quella asiatica e di quella americana. Infine ripilogheremo tutto con una mappa concettuale. Musica senza frontiere. La tradizione musicale tipica di un popolo viene definita musica etnica. La musica popolare si è tramandata oralmente ed è legata alla vita quotidiana e dalle celebrazioni sociali e religiose. Ogni popolo e cultura ha elaborato propri stili musicali e utilizzato strumenti diversi. Cominciamo passando in rassegna alla musica europea. Nell'Europa del Nord particolare importanza riveste la musica celtica. Con questo termine si intende la musica tradizionale delle regioni celtiche, cioè quelle ambitate anticamente dai celti, in particolare Irlanda e Scozia. Le vedete sulla cartina a destra che rappresenta in verde le regioni dell'Europa occidentale abitate agli antichi celti. Il repertorio comprende numerosissime danze e ballate. Tra gli strumenti più importanti vi sono la corna musa e il violino. Ecco dei suonatori e danzatori celti con la corna musa. Il bacino del Mediterraneo è stato oggetto di frequenti scambi culturali tra le popolazioni europee e quelle di cultura araba. La musica più caratteristica della Spagna è il flamenco e la chitarra è lo strumento più utilizzato. In Italia ogni regione ha canti e danze tipiche. E qui vediamo un chitarrista e una ballerina di flamenco. Passiamo al mondo arabo. Per musica del mondo arabo si intende l'espressione musicale dei popoli della penisola arabica e dell'Africa del nord. Ha caratteristiche omogenee dovute soprattutto alla lingua e religione comune. L'Islam riveste in particolare importanza l'ornamentazione detta arabesco. Ecco qui dei musicisti arabi. Molto diffuse sono le composizioni musicali sulle forme poetiche della letteratura araba. Tra gli strumenti ricordiamo l'ud, che è il yuto arabo. Musica fecana. Per musica fecana si intende propriamente quella a sud del deserto del Sahara. Si presenta molto diversificata per le numerose etnie popolazioni, cioè presenti. Accanto alla musica tradizionale praticata nei villaggi, vi è una musica urbana moderna che utilizza strumenti elettrici. Il ritmo è l'elemento musicale più caratteristico e il tamburo è lo strumento principe, come vedete all'immagine sulla destra. Molto importante è il canto narrativo di vicende contemporanee, storiche o mitiche, accompagnato dalla cora, arpa africana e dall'oxilofono. La cora la vedete sulla destra. Passiamo all'Asia. In Asia, soprattutto in Cina, Giappone e Corea, molto utilizzata è la scala pentafonica. Cinque note. In Giappone e Corea i componenti rumoristiche del suono hanno particolare importanza, mentre in Cina le melodie sono più pure e i timbri tendenti all'acuto. Nell'Asia del sud-est la musica ha una particolare fluidità e scorrevolezza e qui vediamo dei suonatori orientali. In India i costumi, l'organizzazione sociale e la spiritualità hanno notevolmente influenzato la musica. La polifonia non è praticata e ogni scala, raga, viene impiegata per specifici momenti e situazioni. Sui raga si esercita l'improvvisazione. Sitar e tabla sono gli strumenti più caratteristici. Qui vediamo dei suonatori indiani. Questo qui è il tabla e invece il suonatore al centro impugna, anche se non si vede tanto, un sitar. Passiamo all'America. Nell'America del nord la musica delle popolazioni originarie sopravvive in alcune riserve di pelle rossa, mentre le popolazioni provenienti dall'Africa hanno dato vita ai generi del blues e del jazz e le popolazioni bianche di origine europea hanno dato origine alla musica country. Abbiamo già parlato in altro tutorial del jazz e del blues. Vediamo sulla sinistra i suonatori di motivi pelle rossa e a destra un suonatore country caratterizzato per la chitarra e il cappello da cowboy. Nell'America centrale i generi che ne sono derivati sono legati soprattutto alla musica da ballo delle isole dei Caraibi e di Cuba. Fra i numerosi balli originari di questi paesi oggi sono particolarmente diffusi la salsa e il merengue sulla destra. Nell'America del sud in particolare in Peru e in Bolivia alcune delle tradizioni dell'originario popolo degli incas sono presenti ancora oggi. Gli strumenti più caratteristici sono la siringa cioè il flauto di pan e il charango che è una piccola chitarra e li vediamo qua a sinistra il charango a destra la siringa. Molto popolari sono le musiche da ballo del tango argentino e della samba brasiliana. A sinistra il danzatore di tango e a destra una ballerina di samba. Mappa concettuale le musiche dal mondo abbiamo in Europa musica celtica flamenco in Spagna canti e danze tipici dell'Italia ognuno per ogni regione. Nel mondo arabo musiche ispirate alla letteratura caratterizzate dall'ornamento, l'arabesco, lo strumento è l'oud. Per quanto riguarda l'Africa musica tradizionale ma anche musica urbana moderna si caratterizzano per il ritmo e gli strumenti sono il tamburo, cora e xilofono. In Asia abbiamo musiche caratterizzate anche dal rumore, in Giappone, melodie pure in Cina e molto importante l'improvvisazione in India. Gli strumenti sono il sitar e il tabla, anche questi indiani. Infine nell'America abbiamo tanti tipi di genere musicali diversi, abbiamo il blues, il jazz, il country, salsa, merengue e tango e samba.